ciao a tutti sono roberto del comitato due rocche ci troviamo a cornuda a due chilometri dall'arrivo della gara in particolare ci troviamo in questo cannetto parte finale della 6 chilometri 12 chilometri e passeggiata storica nordic walking questo farà sì che i percorsi verranno completamente separati dalle altre due gare 21 chilometri 3 e 48 chilometri 3 onde evitare traffico sui percorsi vi ricordo che a cornuda il 12 marzo verrà corso un tre auto gestito solidale a favore dei terremotati organizzato da spirito 3 in collaborazione con ultra 3 l'italia e ottavio massarenti vi aspettiamo numerosi la partenza sarà alle ore 9 vicino o a fianco alla chiesa cipretale di cornuda vi aspetto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti